17esima edizione della giornata dell'innovazione a cura della Camera di Commercio di Bolzano. Rafforzare la cultura dell'innovazione e dell'imprenditoria digitale nelle aziende alto-tesine, questo è uno degli obiettivi dell'iniziativa. L'evoluzione digitale porta con sé cambiamenti per la società, l'ambiente e i mercati. Ma che cosa comporta questo per la propria azienda? Chi vuole continuare ad avere successo deve adattarsi a questi cambiamenti. In realtà noi siamo un'azienda giovane nata da pochi anni quindi non abbiamo subito un grande cambiamento. Per noi è normale e parte integrante dell'attività, diciamo, tutto questo settore tecnologico. Quindi non posso proprio esprimermi su un grande cambiamento perché fa parte della quotidianità da sempre per le nostre attività. La giornata dell'innovazione avvicina alto-tesini e alto-tesine al tema della digitalizzazione. Negli ultimi anni è diventata un luogo d'incontro per i professionisti del settore sia del mondo privato sia di quello pubblico sia nel campo della ricerca.